Green Pass, piattaforma aperta per il certificato europeo, va per iscriversi al portale attivo. L'Italia dovrà attendere il 15 giugno per il via libera alla circolazione. La carta Covid digitale UE entrerà ufficialmente in vigore dal 1 luglio prossimo. Il Green Pass è stato ideato per permettere la ripresa in sicurezza dei viaggi in Europa. Sarà gratuito, sicuro e accessibile a tutti. La carta verde servirà a dimostrare che una persona è stata vaccinata contro il Covid, che è risultata negativa al test o che è guarita da un'infezione. Sono sette gli stati in cui sono già emessi i Green Pass. Gli altri attendono di attivare i sistemi di Green Pass nazionali e di allinearli a quelli europei. 17 paesi pronti a farlo, tra i quali l'Italia, entro il 15 giugno, entro il 1 luglio, il certificato digitale UE Covid sarà applicato in tutta Europa. A rilasciarlo sono le autorità nazionali, ad esempio le ASLA, oppure direttamente tramite il portale di Health del Ministero della Salute. Sul dispositivo mobile può essere memorizzata la versione digitale. I cittadini possono richiedere anche una versione cartacea. Entrambi avranno un codice QR che contiene le informazioni essenziali, oltre a una firma digitale per assicurarsi che il certificato sia autentico. Gli stati membri hanno concordato un modello comune. Quanto dura? Essere guariti dal coronavirus consente il rilascio non solo del Green Pass nazionale, ma anche di quello europeo, quando quest'ultimo diventerà operativo. La validità in questo caso sarà di 180 giorni, a partire dal test molecolare positivo. Dunque le persone guarite saranno esenti da quarantene test per i seguenti sei mesi. Per le categorie già vaccinate il Green Pass sarà immesso sotto richiesta solo una volta completato il ciclo vaccinale. In questo caso il Green Pass sarà valido a partire dal quattordicesimo giorno successivo alla somministrazione e avrà una durata diversa a seconda del vaccino. Per tutti gli altri sarà possibile solo in caso di riconosciuta negatività al virus. I metodi sono due, ottenere un tampone molecolare negativo, valido per 72 ore, oppure sottoporsi a un test antigenico rapido, valido però per 48 ore. Vediamo al Green Pass nazionale. Nella situazione corrente viene meno la sua utilità relativa agli spostamenti tra regioni, mentre è richiesto per effettuare visite ad esempio agli enziani ospitati nelle case di riposo. Allo studio ci sono altre applicazioni, come la possibilità di partecipare a concerti con una capienza maggiore di quella consentita attualmente di entrare in discoteca e in attesa di avere il vero e proprio Green Pass basterà una certificazione che viene rilasciata dall'autorità sanitaria. A partire dal primo giugno ad esempio per partecipare ai banchetti per i matrimoni, le comunioni e le cresime in zona gialla e in zona bianca bisognerà presentare la certificazione che dimostri che si è vaccinati, guariti dal covid o negativi o un tampone.